Passiamo all'interrogazione numero 3968 presentata dai deputati Ghirra ed altri che ad oggetto misure a sostegno dei progetti dei comuni a favore delle città 30 e iniziative per il rifinanziamento del Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale. La deputata Ghirra ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego onorevole. Sì, grazie Presidente. I dati ISTAT sull'incidentalità stradale in Italia ci dicono che oltre il 73% degli incidenti stradali avviene su strade urbane dove l'80% delle vittime sono pedoni, ciclisti e motociclisti e l'eccesso di velocità è la prima causa in assoluto degli incidenti mortali. Gli studi dimostrano che in uno scontro frontale abbassare la velocità da 50 a 30 km all'ora può ridurre la mortalità dal 90 allo 0,5%. Le chiediamo quindi, signor Ministro, se al fine di ridurre l'incidentalità nelle aree urbane non ritenga di sostenere le iniziative dei comuni a favore delle città 30 peraltro in coerenza con il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 elaborato dal suo Ministero e di rifinanziare il Fondo Nazionale per rendere il trasporto pubblico locale più efficiente e disincentivare l'uso dell'auto privata. Grazie. Grazie onorevole Ghirra. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. La ringrazio per l'opportunità di chiarire perché la sicurezza stradale è stata una delle mie priorità dal giorno del giuramento, tanto che proprio quest'Aula dal primo marzo, quindi fra pochi giorni, prenderà in esame il disegno di legge sulla sicurezza stradale che si occupa di educazione stradale vera nelle scuole, di maggiori controlli sulle strade e che prevede anche delle sanzioni per i comportamenti scorretti, con ritiro anche breve della patente perché per quello che mi riguarda chi guida e commette un crimine drogato o ubriaco deve essere messo in condizioni di non poterlo rifare. Quindi sì, è un codice della strada che prevede sanzioni più dure, ad esempio per chi occupa lo spazio riservato ai disabili o per chi abbandona degli animali lungo la sede stradale. Per quello che riguarda i 30 all'ora, il codice della strada prevede, io ne sono un sostenitore, che in alcune limitate, motivate zone delle città a rischio possano essere ridotte velocità o installati degli autovelox. Penso alle scuole, agli asili, agli ospedali, alle case di riposo, a strade più strette. Pensare di estendere i 30 all'ora, le ZTL, a interi luoghi cittadini non aiuta né la sicurezza né la decarbonizzazione è semplicemente complicare la vita a gente che vuole lavorare. Quindi ben vengano le riduzioni di velocità e gli autovelox laddove c'è un motivo malvengano gli autovelox che qualcuno mette per fare cassa sulla pelle degli automobilisti. Per quello che mi riguarda, e vado a chiudere, abbiamo un'interlocuzione assolutamente positiva con Anci in seguito alla nostra direttiva e quindi conto che questo dialogo non ideologico ma pragmatico e fondato sul buonsenso vada avanti e per me la vita vale ben di più rispetto all'ideologia. Quello che stiamo facendo è offrire agli automobilisti la possibilità di scegliere il trasporto pubblico. Abbiamo messo nell'ultima legge di bilancio 900 milioni di euro a favore del trasporto pubblico. Per quello che riguarda i ciclisti abbiamo messo nel nuovo codice della strada delle tutele con delle distanze minime per il sorpasso. Mi permetta di dire che non fa il bene dei ciclisti ipotizzare che siano piste ciclabili delle strisce di bianco messe sull'asfalto in mezzo a fermate dell'autobus e a negozi a carico e scarico merci. Per quello e concludo che riguarda i monopattini con le nuove regole saranno tenute a rispettare le norme del codice della strada che rispettano tutti gli altri perché non puoi andare contromano sul marciapiede a 50 all'ora senza rispondere di quello che fai e dei danni che fai.